Anche quest'anno, per la terza volta consecutiva, si svolgerà la Festa della Montagna dei Piccoli Comuni, una manifestazione voluta dalla provincia di Pescara per far conoscere le caratteristiche, le attività e le problematiche dei piccoli comuni della provincia. Dopo Caramanico e Montabello di Bertona, quest'anno la festa sarà organizzata in uno dei piccoli centri più colpiti dal terremoto, Bussi sul Tirino, dove per cinque giorni, dal 20 al 24 agosto, le giornate si animeranno con manifestazioni sportive, attività educativa ambientali, spettacoli teatrali, convegni e concerti. La manifestazione vede la compartecipazione dell'amministrazione comunale e la collaborazione del Centro di Educazione Ambientale, il BOSSO. Credo sia un'opportunità, che è una scelta, viene da lontano, addirittura dall'anno scorso, ed è casuale che la sede della festa dei piccoli comuni della montagna sia stata quella di Bussi, però adesso credo che sia un segnale di testimonianza della solidarietà che può arrivare, così come è avvenuto con il cartellone che è stato allestito con una grande solidarietà da parte di artisti del calibro di Modena City Ramblers oppure di New Trolls. Ovviamente l'attenzione è dedicata anche alla presentazione di due libri che riguardano il terremoto, con tutte le opportunità che potranno nascere dal convegno finale in collaborazione con l'Anci, dove parteciperanno il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia e tutti i sindaci del cratere. Il tema è i piccoli comuni e la ricostruzione, credo sia questo momento importante per fare il punto della situazione e ci viene data questa opportunità.